Santa Maria, soccorri i miseri, aiuta gli sfiluciati, rincuora i deboli, prega per il tuo popolo, intervieni per il clero, intercedi per le donne consacrate. Quanti celebrano il tuo ricordo, sperimentino tutti il tuo aiuto generoso. Attenta alla voce di chi ti prega, soddisfa il desiderio di ognuno. Così, Fulberto di Schatz.